Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo in viaggio nel Borneo con la mia moto scassata, presa a noleggio nell'aeroporto di Kuching. Il mio viaggio in questo momento continua, ecco questa è la mia moto, quello che vedete qui è il bastone che mi porto dietro, non è un bastone arma da difesa contro le persone e contro gli animali, perché mi addentro nei percorsi nella giungla, per cui sono quei percorsi che ti portano nella foresta e poi è bene avere il bastone che se incontrate qualche felino, io l'ho tirato in testa e scappa. Ecco questo un po' per dire cosa mi sto accingendo a fare adesso, siccome il viaggio è lungo e capita anche di perdersi perché nei posti sperduti ci sono tracciati che a malapena figurano sulle mappe, a volte non figurano neanche, è bene sapere la propria direzione dove si sta andando, sto montando, monterò nella moto in carica batteria per il telefono cellulare che uso come gps, ecco questo è quello che serve, servono quattro cose, serve il caricabatterie comprato qui in negozio mezzo euro, mezzo euro, qui ho due metri di filo per collegarlo pagato 25 centesimi di euro e le fascette pagate 75 centesimi di euro, più o meno siamo al di sotto del 2 euro di spesa, adesso qua il problema che bisognerà collegarlo, questo trabicolo non ha la batteria, lo collegherò ai fili delle lampadine, i fili che devo fare, lo collegherò ai fili, adesso stavo cercando, io l'ho messo in teco, lo strumento da lavoro, è un semplicissimo tagliaunghie perché non ho altri strumenti, non ho, per tagliaunghie lo uso poi alla fine per spellare il filo e per aprire, e per aprirlo, vediamo ora di aprire, apriamo qua, tagliamo, qua c'è una fascetta, lo apriamo, tanto c'è un lavoro di un minuto, c'è cosa che si vuole mettere a collegare, ecco qua è già tutto scassato per il contusè, qui dentro abbiamo tutti i fili, lo collego qui dentro e sono a posto, poi lo leggo, l'ho fisso da qualche parte con le fascette, ok, l'ho già anche visto dove collegarlo, bene, perfetto, stacco qui, se no non riesco a spellare il filo con una mano sola, spello il filo, lo collego qui, attacco, poi attacco il filo a questo mandoroncino qua, che ha il più è qui nel mezzo, il meno è qui, per cui il rosso va qui, il nero lo attacco qua, e domani continuerà il mio viaggio, ciao ragazzi, alla prossima, ciao!